Sant'Angelo Anilo fu costruita per volere di Rinaldo Brancaccio, cardinale a Napoli dal 1385, accanto al Palazzo di Famiglia. Verso il 1535 la chiesa fu ampliata andando a inglobare il seggio di Nido, luogo di rappresentanza cittadina fin dall'età ducale. Riadattato dall'architetto Arcangelo Guglielmelli all'inizio del XVIII secolo, l'edificio conserva all'esterno, quali testimonianze più antiche, l'ingresso laterale quattrocentesco in marmo e sul portale principale i battenti linee intagliati, databili ai primi anni del 1500. Alla destra dell'altare è collocato il sepolcro del fondatore, Rinaldo Brancaccio, eseguito da Donatello e dal suo allievo Michelozzo. Il monumento funerario fu scolpito a Pisa nel 1428 e inviato via mare a Napoli. L'impianto baldacchino, con il defunto giacente, riflette ancora la tipologia dei monumenti tardogotici, sebbene la scelta del grande arco a tutto sesto preluda già alla cultura rinascimentale. Tre eleganti figure femminili sorreggono il sepolcro su cui è disteso il cardinale, mentre, più in alto, due angeli tengono i drappi da cui si disvela la Madonna col bambino. Infine, un baldacchino sorretto da colonne con capitelli compositi sovrasta il tutto. Sull'altare maggiore si trova il dipinto raffigurante a San Michele Arcangelo, di un allievo del Beccafumi. Marco Pino, artista molto attivo a Napoli nella seconda metà del 1500. Il dipinto è tra i più importanti esempi manieristici del pittore, attento e studioso delle forme michelangiolesche, sciolte in colori intensi e liquidi. La posizione del santo, con braccia e gambe contrapposte, crea un movimento serpentinato della figura, effetto spesso adoperato in pittura dopo essere stato ideato da Michelangelo. All'esterno della chiesa, nell'omonima piazza, si trova la statua del Nilo, monumento legato ad antiche mitologie. La statua risale al II secolo d.C. e raffigura il dio Nilo, oggetto di un antico culto praticato da una comunità di mercanti, stabilitisi in questo quartiere, nel cuore della città e provenienti da Alessandria d'Egitto. La statua subì nei secoli alterne vicende, che ne hanno resa leggendaria la fama, al punto da essere considerata uno dei simboli di Napoli. Cessato il culto alessandrino, fu dimenticata e sepolta, per essere poi ritrovata nel XII secolo senza la testa, e perciò scambiata per una figura femminile. La perdita della sfinge che l'accompagnava e la presenza dei bambini avevano fatto credere si trattasse di un'allegoria della città, e fu quindi chiamata il Corpo di Napoli. Nel 1657 un restauro gli restituì una testa maschile barbuta e il basamento su cui oggi poggia. Nel 1657 un restauro gli restituì una testa di un'allegoria della città, e fu quindi chiamata il Corpo di Napoli.